ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi il video dei prodotti finiti beauty del mese ne ho una marea ma veramente una marea messi nel mio solito bustone del dm per cui comincio subito non mi parlo in chiacchiere e vi mostro e recensisco tutto quello che ho finito in questo mese finito in questo mese vuol dire non cominciato in questo mese qui dentro ci sono prodotti cominciati due mesi fa cominciati tre mesi fa cominciati addirittura un anno fa finiti all'interno di questo mese faccio questa premessa perché ogni tanto vengono fatti comunque dei commenti sgradevoli sotto i video della serie consumi troppo oppure svaliggi supermercati allora il mio modesto parere è che il fatto che io possa consumare troppo o svaliggiare un supermercato non toglie niente alle altre persone per cui io penso che ognuno è libero di fare quello che gli pare a me piace provare i prodotti per cui li compro ne apro diversi poi magari arriva il mese che ne finisco tantissimi perché magari c'avevo il fondo dello shampoo il fondo del dell'intimo eccetera ok comincio a farvi vedere i prodotti comincio dalle cose di poco conto come al solito tipo veline fazzoletti cerco di dare un ordine ma c'è un c'è tanta roba veramente dentro la busta per cui boh non lo so vado veloce su queste cose comunque allora veline queste qui sono quelle di gotà le avevo comprate perché avevano un bel pack molto diciamo questi fiori molto eleganti li tenevo nella postazione trucco mi sono trovata bene queste sono da due veli mi pare sì da due veli però dai mi sono trovata abbastanza bene poi vabbè io non è che sia poi così esigente su queste cose poi ho finito questi 60 maxi dischetti ad uso cosmetico doppia faccia lato struccante lato tonificante 100 per 100 cotone di questa marca fleur de fleur de qualcosa non mi ricordo dove l'avevo comprati forse da risparmio casa o dai cinesi sì non mi sono dispiaciuti non sono i miei preferiti in assoluto perché i miei preferiti in assoluto sono quelli del conad e oppure i cotoneve eccetera però dai non mi sono per niente affatto dispiaciuti poi sempre carta calla tigota questi qui nella versione al cubo sono praticamente uguali rispetto alla versione quella rettangolare solo che questi no scusate questi sono quelli a tre veli quindi un pochettino più resistenti mi sono trovata comunque bene con entrambi io questi li uso sia nella postazione trucco ci pulisco gli occhiali insomma per diversi usi poi queste salviettine della speedy car mille usi queste sono alla all'aloe queste hanno la clorexidina scusate ideale per tutta la famiglia e sono al tè verde mi piacciono tantissimo questa hanno una buonissima profumazione non non è la prima volta che li finisco e che li compro e che li finisco costano pochissimo tipo sotto l'euro quando li trovo in offerta la saponeria tendo ad acquistarli anche se adesso ultimamente un po che non li compro e non so se sono aumentati perché come sapete aumentato più o meno tutto poi ho finito queste salviettine struccanti viso e occhio della linea conad essenzie allora mi sono trovata bene fino a un certo punto dopo di che si sono le ultime si sono seccate io le uso nella postazione makeup non mi ci strucco il viso le uso per pulirmi le mani gli swatch queste cose qui però alla fine si erano seccate per cui non lo so se le ricomprerei poi vabbè le ho riutilizzate lo stesso perché quando si seccano ci metto dentro un po di acqua micellare e le riutilizzo però si sono seccate perché non hanno comunque l'apertura in plastica anche se devo dire che a volte compro anche delle salviette che hanno una chiusura così e non si seccano queste però si erano seccate per cui forse questo è il motivo per cui non non le ricomprerò poi ho finito questi che erano questi ecco pads in della garnier skin active tre pads lavabili questi qua ve li faccio vedere vabbè adesso li sto praticamente utilizzando ho buttato la confezione ve li recensisco ve li metto nei prodotti finiti sì buoni devo dire erano morbidi io mi ci strucco li utilizzo per struccarmi ci sia per passare il bifasico sugli occhi l'acqua micellare piuttosto che quando uso il burro struccante per rimuovere tutto mi ci sto trovando bene chiaramente questi li riutilizzo però ve li faccio vedere qui così vi dico quello che ne penso anche se mi piacevano di più quelli della lidl che però erano in edizione limitata e non ho più trovato poi come salviettine intime ho finito al lavoro queste della intima più mini pocket buona la profumazione però non sono le mie preferite le mie preferite sono le carefre le carefre le carefre o le fria poi che cosa ho finito vediamo un attimo cercando di non fare casino perché poi quando edito e riguardo il video c'è il casino da fastidio allora ho finito queste pure questi dischetti ovali 100% cotone alto spessore della quando è quando è si trovano queste qui sono sono quelli che si trovano tigotami ci sono trovata bene ma come vi ho detto non è che abbia grandi esigenze su queste cose però i miei preferiti sono quelli del conad perché hanno il giusto la giusta morbidezza mi piacciono insomma quelli del conad e tra l'altro trovo che abbiano un ottimo rapporto qualità prezzo sto guardando se ci sono altre salviettine o cose di questo genere non mi pare ok cominciamo con bagnoschiuma saponi tutte queste no scusate prima le le cose dell'igiene orale i prodotti per l'igiene orale ho finito questo colluttorio della don to dent questo questo è quello comprato al dm era nella versione blu non male ma non è il mio preferito della grande distribuzione l'ho già detto più di una volta che il mio preferito della grande distribuzione l'acqua fresh poi ho finito anche la versione sensitive anche questo comunque non male aveva un gusto delicato più delicato rispetto a questo però dai non impastavano la bocca costano poco un euro e trenta considerando che adesso anche i colluttori sono arrivati a dei prezzi veramente abbastanza importanti magari ecco per risparmiare un nuovo al dm e compra questi poi che cosa vi faccio vedere comincio con saponi queste cose qui allora ho finito questo doccia shampoo della elioderma con olio essenziale di tea tree antibatterico naturale all'arancia si dice con acqua distillata di fiori d'arancio certificata bio allora non l'abbiamo usato per come shampoo l'abbiamo usato come doccia schiuma d'estate molto buono una bella prof una buona profumazione agrumata non seccava particolarmente la pelle per cui ci siamo trovati bene l'abbiamo utilizzato sia io che carim ci è piaciuto abbastanza poi carim ha usato questo della balea all'anguria perché lui ama le profumazioni all'anguria l'ho usato anche io buono questo come profumazione devo dire che questi bagnoschiuma fatti così della balea a me non fanno impazzire sì buona la profumazione però preferisco altro e diciamo che tra tutti questo era uno dei più buoni provati appunto per questa buonissima profumazione di anguria che appunto sapeva di estate però il mese scorso mi pare che vi avevo fatto vedere quello della felce azzurra quello mi era piaciuto di più sinceramente di questo insomma questo meno quello di felce azzurra all'anguria un po meglio quello summer qualcosa non mi ricordo in quelle tre quattro versioni qualcuna ne ho ancora da finire poi ho finito questo ragazze della fitorelax questo bagno doccia balsamico e rigenerante della fitorelax bio alle 31 erbe buono non seccava particolarmente la pelle mi sono trovata bene questo l'ho utilizzato io mi piaceva la profumazione molto rinfrescante d'estate balsamica più che rinfrescante rinfrescante sì è vero rigenerante e balsamica come proprio dice qui però devo dire una cosa forse in un paio di occasioni forse perché avevo la pelle particolarmente sensibile a volte mi capita raramente ma mi capita mi ha dato del prurito cosa che non mi succede praticamente mai per cui questi oli essenziali a volte sono abbastanza aggressivi sulla pelle per cui bio non vuol dire non aggressivo questo sicuramente perché magari questo mi ha dato prurito quello della grande distribuzione con siliconi e schifezze varie all'interno magari non mi dà nessun tipo di fastidio quello mi ha dato un po di prurito sinceramente poi ho finito questo dei tesori d'oriente nella profumazione ninfea bianca e legno di inocchi anche questi li trovo che seccano leggermente poi a me non dà fastidio perché comunque diciamo che non ho la pelle particolarmente secca però ecco ha una buona profumazione questa però ecco questi bagnoschiuma dei tesori d'oriente non sono tra i miei preferiti penso che ci sia di meglio adesso ho comprato anche la profumazione quella arancione devo ancora farmi un'idea precisa però ecco non sono i miei bagnoschiuma preferiti in assoluto sì ogni tanto li compro ma non sono proprio i miei bagnoschiuma preferiti in assoluto poi ho finito abbiamo finito perché questo l'abbiamo utilizzato sia io che karim questo bagnoschiuma all'aloe vera all'aloe vera comprato all'eurospin della niar in questo flacone da 650 ml buono era aveva una consistenza in gel non mi seccava a me non seccava particolarmente la pelle neanche a karim una buona profumazione fresca piacevole da utilizzare l'estate l'ho usato anche un pochettino nel l'ho messo anche nel dispenser come sapone mani buono anche come sapone mani sapone mani non mi dispiace anche se trovo che questi mi è piaciuto volevo dire solo che trovo che questi prodotti di euro spin alla fine se uno hanno aumentato un po troppo i prezzi cioè se uno al supermercato trova due euro non so quello della infasi il faccio per dire e questo costa quasi due euro all'euro spin anche no anche se magari la qualità è la stessa però io penso che il discount deve tenere i prezzi più bassi altrimenti non è più discount ecco tutto qua poi ho finito questo qui della cleanians doccia shampoo dopo sole bellutante abbronzatura protetta allora abbronzatura protetta non lo so ragazze qui dice con vitamina e ed estratto di lino però aveva una buona profumazione delicata non mi ha fatto impazzire cioè non mi ha esaltata questo bagno schiuma però devo dire mi è piaciuto abbastanza non mi seccava la pelle l'abbronzatura come dicevo non lo so e non mi interessa non ci credo a queste cose perché se ti lavi comunque l'abbronzatura va via e e poi comunque deve andare via comunque devo dire un buon prodotto però non l'ho utilizzato per i capelli perché comunque io per i capelli ho trovato abbastanza la pace adesso con gli shampoo della fitorella e scusate della fitorella della tecno nature e quindi resti voi tecno nature linea per cui non è che vado tanto a cercare in giro prodotti eccetera poi ho finito questo scrub della biolis nature green selection con il 98 per cento di ingredienti di origine naturale alla menta e lime scusate le condizioni pietose ma era rimasto in doccia da un bel po e tra l'altro non è la prima confezione che utilizzo è un buonissimo scrub zuccherino anche se io preferisco gli scrub salini molto strong come come scrub quindi come piace a me lascia la pelle bella levigata morbida nutrita perché ha anche una buona componente oleosa un ottimo scrub di grande distribuzione voglio provare anche quando smaltisco un po di scrub che ho nelle scorte anche le altre profumazioni mi è piaciuto poi ho finito questi sali per il pediluvio della alga sun questo il pediluvio lo facciamo sia io che carim soprattutto in estate buonissimi ragazze una profumazione balsamica buonissima che pervade praticamente tutta la stanza dove fate il pediluvio ne basta un cucchiaino da mettere in acqua calda i piedi sono rinvigoriti rigenerati morbidi è buonissimo questo pediluvio praticamente prima acquistavo quelli del dm si buoni ma questo nettamente superiore quando lo trovo in offerta tendo a fare scorta e mi piace moltissimo poi cosa ho finito vediamo questo deodorante della dav nourishing secret alla profumazione restoring ritual tipo un po di cocco sapeva c'è una profumazione diciamo non proprio cocco un cocco misto a qualcosa di dolce vanigliato insomma buona la profumazione diciamo che per le ascelle io non a me non piacciono molto i deodoranti spray per le ascelle ogni tanto li utilizzo oppure li utilizzo anche per deodorarci vestiti anche volte anche l'ambiente insomma buono comunque e comunque quando l'ho utilizzato per la sudorazione d'estate teneva veramente molto bene per cui i dav sono ottimi questo l'avevo trovato all'esse lunga in offerta un buon prodotto devo dire non il mio deodorante preferito però un buon prodotto poi ho finito questo struccante della garnier skin skin naturals sensitive struccante bifasico bifase due in uno senza alcol per viso e occhi questo è ottimo devo dire si trova nella grande distribuzione costa poco non appanna gli occhi strucca bene io lo applico con un dischetto di cotone di quelli appunto riutilizzabili o anche di quelli lavabili che vi ho fatto vedere prima dipende e come mi gira sul momento e niente lo applico lo tengo un pochettino in posa poi lo rimuovo e toglie via bene abbastanza tutto il trucco mi è piaciuto e lo consiglio a poi mi era rimasto scusate il mio filo in uno dei miei fili interdentali preferiti in assoluto della vita che è questo oral b pro expert è piatto toglie bene tutti i residui di cibo tra un dente e un altro lascia una gradevolissima profumazione un gradevolissimo sapore di mentolato in bocca anche se preferisco quello blu lux qualcosa però comunque anche questo è un ottimo prodotto io come filo interdentale utilizzo solo questo non lo cambio a poi erano rimasti queste salviettine della clio san per l'igiene intima clio san queste qui mi sembra che le ho prese all md non vorrei dire una cavolata quando era al mare oggi e scusate oggi quest'estate a san benedetto sì senza infamia né lode niente di particolare cioè le mie preferite in assoluto rimangono comunque quelle della scusate quelle della carfre e quelle della fria alla salvia qualcosa comunque diciamo che nessuna di queste salviettine mi ha irritata quella è la cosa più importante per cui sono andate abbastanza bene poi chiaramente non sono le mie preferite però sono andate abbastanza bene poi cominciamo si prodotti per il corpo no ho finito aspettate allora per il corpo finito la body lift di clarence scusate che body lift mi sbaglio sempre la body fit di clarence questo trattamento anticellulite da 400 ml era una crema gel con una bellissima consistenza si assorbiva benissimo sul corpo nelle io lo applicavo un po sulle sulle gambe sui glutei sulla pancia sulle braccia ho fatto una recensione specifica su questo mettendolo a confronto con il collistar il criogela anticellulite magari ve la linko nelle schede se la volete andare a vedere mi è piaciuto però sui buchetti della cellulite che io ho solo in un piccolo punto sotto il ginocchio non ho visto granché ragazze per cui una buona crema diciamo rassodante levigante e compattante però su quei buchettini della cellulite io non ho visto niente per cui non so se lo ricomprerei anche perché è un trattamento che costa veramente tantissimo a prezzo intero questo trattamento lo penso che costi sugli 80 euro quindi veramente un'esagerazione io l'avevo acquistato sul sito di marisa profumerie a metà prezzo quindi l'avevo pagato 40 euro per 400 ml era una buona occasione per provarlo però ecco non lo ricomprerei mi piacerebbe invece comprare e provare la masel la masvelt advanced quella che è uscita da poco e anzi se c'è qualcuno tra di voi che l'ha provata magari qui sotto mi faccia sapere come ci si è trovata se vale la pena acquistarla o meno poi quest'estate ho finito questo latte dopo sole oligo termale di bio term questo l'avevo acquistato in un cofanetto insieme a il solare solare ve l'ho fatto vedere il mese scorso mi è piaciuto anche questo devo dire un buon latte dopo sole molto fluido si assorbiva bene con una leggerissima sensazione di freschezza una buona profumazione però ecco trovo che questi prodotti della bio term sia il solare che questo siano un po troppo profumati forse io preferisco diciamo delle delle creme dei dei latti dopo sole che non sono così profumati questa era c'è la pronuncia la profumazione è gradevole ma si sente ecco però ecco se vi piace mi piacciono mi piacciono le profumazioni non saprei neanche come descriverla un po solari però fresche questo è un ottimo dopo sole mi è piaciuto anche se non è il dopo sole migliore che abbia provato in vita mia però mi è piaciuto poi che cosa ho finito cominciamo con i trattamenti viso si viso occhi poi c'è qualche c'è un prodottino di make up che sono il lutto per averlo finito e poi abbiamo concluso quindi alla fine sembrava molto piena ma si vede che c'era molto volume alla fine non è che abbia finito di più degli altri mesi allora abbiamo finito anzi l'ha finito più carim che io questo questa balea schiuma detergente delicata con aloe vera 150 ml allora lui ci si è trovato bene sapete che comunque i bambini non hanno grandi pretese io gli faccio utilizzare queste schiume per lavarsi il viso perché trovo che siano più delicate e lui ci si lava anche più volentieri da quando utilizza queste questo genere di prodotto per lavarsi il viso la mattina la sera insomma quando si deve lavare il viso aveva una buona profumazione io l'ho provato tre quattro volte per parlarvene non è così delicato secondo me come come dice ci sono prodotti di questo tipo molto più delicati e superiori ovviamente chiaramente va valutato in base al prezzo costa poco non è niente male però ecco non mi ha fatto impazzire per quanto mi riguarda buona questa mousse de nettoian di uriage questa strucca deterge e purifica questa l'avevo cominciata per esempio già un bel po di tempo fa dopo di che volevo passare ad altro non perché non mi piacesse ma perché mi piace provare i prodotti quindi poi l'ho messa in doccia e ci ho messo una vita a finirla perché la utilizzavo poi solo quando magari facevo la doccia mi struccavo prima poi entravo in doccia e facevo la doppia detersione praticamente in doccia con questa molto buona delicata non seccava questa per dire molto più delicata di questa secondo me molto delicata non seccava struccava bene un ottimo prodotto uriage fa prodotti tra l'altro studiati per pelli molto delicati e sensibili per cui se avete la pelle reattiva delicata sensibile è un prodotto che vi consiglio poi che cosa ho finito ragazze e ragazzi allora cominciamo con trattamenti si ma scusate devo buttare questo balsamo labbra della the body shop molto buono devo dire ragazze finché è durato dopodiché avendo appunto tanti prodotti aveva un paio di 12 mesi forse l'ho superato si diciamo che a un certo punto ha cominciato a puzzare per cui lo devo buttare aveva questa consistenza giallina è molto buono devo dire molto idratante nutriente per le labbra però purtroppo puzza e lo devo buttare non si conserva molto bene ecco anche se vabbè io ho superato il pao credo però ecco non è che avessi comprato da cinque anni poi cosa ho finito ho finito questi patch occhi della petify allora io sono un po pigra ragazze con i patch occhi perché trovo che onestamente a parte un po rinfrescare così non è che facciano granché questi infatti erano se non mi ricordo male la bava di lumaca si snail alla bava di lumaca le avevo comprati perché volevo mi volevo illudere di schiarirmi un po le occhiaie con questo genere di prodotti poi però non riesco ad essere costante per cui non ho visto assolutamente niente e non erano particolarmente imbevuti certo lasciavano la zona più levigata però vi devo essere devo essere sincera ragazze io non li ricomprerei adesso ne ho altri quelli alla rosa della amish che mi aveva inviato sylvana o quelli ma penso che dopo che avrò finito quelli io a meno che non magari qualche azienda non me li mandi io non non comprerò più questo genere di scatoline con tanti patch occhi magari me ne compro una mascherina con un patch occhi perché non li faccio così frequentemente uno perché penso comunque di non averne bisogno poi perché appunto sono dei trattamenti che non è che amo particolarmente fare per cui ecco questo è quello che penso su questo prodotto non erano male ma io non non mi piacciono ecco questo genere di prodotti poi andiamo ai questi calzini che ho fatto per i piedi del dottor shuls o school non so come si dice molto validi ve li avevo fatti vedere anche il mese scorso come trattamento per i piedi d'estate questi li faccio spesso questa era la versione alla lavanda avevano anche una buonissima una buona gradevole profumazione di lavanda mi lasciavano i piedi morbidi nutriti buoni chiaramente vanno ripetuti però ecco non insomma sono dei validi prodotti di quelli che ho provato non è che ne abbia provati tantissimi però sono i miei preferiti poi ho finito questi guantini per le mani di sephora questi ce l'avevo nella scorte da una vita all'aloe vera non so se sephora li faccio ancora questi erano i guantini non erano particolarmente imbevuti buoni sì però ecco non che mi abbiano fatto dire wow non mi abbiano non mi hanno colpito particolarmente per cui non li andrei a ricercare e anche se li ritrovassi non credo che li ricomprerei poi ho finito questa meraviglia che è questo trattamento della sincrovit alla vitamina c questo è un trattamento in sei flaconi da 5 ml con vitamina c pura più zinco più sod dice che è un altro ingrediente ed è un siero liposomale concentrato qui dice effetto sincronizzato antirugono e formante il corollito cutaneo 10 per cento di vitamina pura allora quell'ingrediente che chiama soc non mi ricordo come si chiama magari ve lo metto in sovraimpressione buonissima ragazzi uno dei migliori trattamenti alla vitamina c che io abbia mai fatto era in questi flaconcini che vi faccio vedere il flaconcino era così qui è contenuta la polverina qui il liquido si apre praticamente si miscelano sul momento spingendo il tappino scende la polverina si miscelano quindi non si altera non si ossida facilmente proprio perché in questi flaconcini monodose quindi rimane perfetto devo dire che non è a livello di texture il siero migliore che io abbia mai provato la vitamina c però qui ho visto veramente proprio dei risultati io quest'estate ho visto veramente la mia pelle più uniforme il colorito appunto più uniforme la pelle più luminosa più levigata veramente un ottimissimo trattamento tra l'altro vedete c'erano anche due di questi erogatori poi si applica questo erogatore questo è l'altro l'altro flaconcino si applica questo erogatore quindi molto comodo devo dire che lo ricomprerei questo alla grande mi pare che l'avevo comprato su un nottino non vorrei dirvi una cavolata ma mi pare che l'avevo comprato su un nottino però si trova anche in vari siti di farà farmacie farà farmacia è un trattamento che esiste da una vita ma che io non avevo mai avuto occasione di provare e sono stata felice di averlo provato e mi è piaciuto tantissimo vedete c'è anche il libricino delle istruzioni all'interno della confezione un ottimissimo prodotto poi come siero all'acido ialuronico finito questo della collagenil il repalp aveva una consistenza blu astra molto fluida ve ne ho parlato in penso in uno degli ultimi video dei top e flop un buon siero all'acido ialuronico non il mio super preferito preferisco di gran lunga il siero di la roche posé però ecco dai non mi è dispiaciuto non è un prodotto che posso bocciare certo è che non lo ricomprerei perché costa tanto a prezzo intero penso che sta sui 50 euro io l'avevo comprato a metà prezzo tenete presente che compro tutto sempre più o meno in 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 sconto soprattutto questi prodotti che sono costosi per cui sì magari se lo trovate a metà prezzo potete togliervi la curiosità di provarlo però a prezzo intero sinceramente se io mi compro tutta la vita e la roche posé ecco questioni magari di gusti personali sto quasi finendo ragazzi alla fine insomma dai pensavo peggio poi ho finito questa crema viso di l'irac questa della linea lift integral creme lift rimodellante scusatemi il francese ciao marie se mi stai ascoltando c'è una ragazza francese che mi ascolta che mi segue con affetto sia qui che su instagram scusami del pessimo francese e buona molto buona ve ne avevo anche di questa parlata nel in uno dei video ultimi dei top flop non mi ricordo quale aveva una consistenza non troppo compatta né tantomeno troppo fluida purtroppo è completamente finita vedete non però ve ne avevo parlato già in quel video ho visto proprio la pelle più compatta più con il colorito bello uniforme la utilizzavo tra l'altro l'ho utilizzata tra l'altro anche nel periodo estivo ragazze non era per niente pesante questa crema per cui devo dire che mi è piaciuta veramente tanto e ve la consiglio moltissimo di questa linea lift integral angela del canale hour rom il stroché e bla 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 ciao angela consigliato tantissimo il siero che voglio provare anche se adesso penso che abbiano cambiato il pack di questa linea e però penso che sia quello nel pack nuovo adesso si trova quel siero correggimi se sbaglio angela perché i prodotti sul mercato sono tantissimi ormai e uno praticamente deve prendere gli appunti per ricordarsi tutto comunque un'ottima crema non pesante neanche nel periodo estivo e poi era una crema comunque anti age che appunto compattava levigava la pelle era luminosa non era unta e io la utilizzavo anche con mischiata le goccine auto abbronzanti e mi sono trovata veramente molto bene con questa crema di lerac poi ho finito questa meraviglia che è questo con il contornocchi di shiseido questo se vi ricordate bene chi mi segue da tempo magari si ricorda questo era stato un regalo del compleanno scorso di mio figlio e mia mamma io sono nata ad ottobre quindi tra un po farò di nuovo gli anni quindi questo praticamente mi ha durato quasi un anno perché ne basta veramente una puntina quindi è vero che costa tantissimo però ne basta una puntina a me mi è durato veramente tantissimo lo usavo solamente la sera perché è un contornocchi molto corposo un bello nutriente comunque mi compattava bene la zona del contornocchi e soprattutto con una texture meravigliosa soprattutto non mi ha fatto uscire grani di miglio quindi un ottimo contornocchi se avete anche il contornocchi secco scusate secco con rughe lo consiglio chiaro che costa tantissimo si può trovare anche si possono trovare anche dei buoni prodotti a meno se vi volete concedere un bel regalo lo potete acquistare magari si trova in sconto nei vari siti di profumerie eccetera su sensation profumerie ci sono degli ottimi prezzi questa è della linea benefiance e è il wrinkle smoothing eye cream ottimo prodotto costosissimo però ottimo poi ragazzi ho finito questa maschera della l'oreal questa qui è nuova e l'ho trovata all'esse lunga e è la crema anti age triplazione maschera anti età laser x3 una maschera con un siero lattiginoso ma leggero molto buona idratante compattante mi è piaciuta certo la ricomprerei a prezzo se la trovassi scontata perché a prezzo intero costa veramente tanto forse perché adesso è una novità non è uscita da tanto l'ho pagata 3 euro e 99 ecco 3 euro e 99 non ce li rispenderei però ecco mi è piaciuto devo dire che mi è piaciuta e devo dire che le maschere della l'oreal sono ottime la maggior parte sono ottime perché quella della linea all'acido ialluronico rivitalift è ottima anche questa quella la vitamina c la sto provando adesso ed è buona questa pure ottima e soprattutto hanno un effetto anti age cosa che per esempio non trovo in altri in altri tipi di maschere come non so quelle di balea mi viene un esempio sono solo idratanti magari ma questa qui invece aveva anche un effetto abbastanza anti age infatti contiene i peptidi acido ialluronico vitamina c maschera in tessuto bla 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 qui dice tenere in posa 15 minuti poi io vabbè la tengo sempre in posa un pochettino di più questo genere di maschere comunque mi è piaciuto poi ultimo prodotto ragazze un prodotto di make up ho finito questa meraviglia di cui vi ho fatto le balls su instagram per chi mi segue su instagram lo sa e è questo fondotinta di chanel fondotinta perfezionatore di incarnato di chanel che avevo acquistato in questa mini taglia per l'estate per quando ero abbronzata ed è lo detente di chanel nella io l'avevo preso nella colorazione medium plus colorazione perfetta per me nel periodo in cui sono tornata dal mare che era abbronzata mi dava quel quel quell'aspetto di pelle radiosa riposata ma nello stesso tempo essendo un prodotto nonostante sia un prodotto molto leggero teneva bene aveva una buona durata non è che andava via dopo due secondi aveva una buona durata nel corso della giornata comunque la sera quando tornavo mi ritrovavo comunque il viso ancora ben uniformato luminoso non unge assolutamente l'ho fatto comprare anche alla mia amica giorgia che ha la pelle grassa ciao giorgia se mi stai ascoltando e mi ha detto che l'ha provato è andato dal parrucchio è andata la parrucchiera con 40 gradi e non l'ha lucidata per cui veramente un ottimo prodotto devo dire che questi queste basi di chanel mi piacciono da morire tra l'ho dettaglio io possiedo anche il touch detente che ancora devo finire lo possiedo in due colorazioni devo dire che tra le due forse mi piace più questo lo detente però d'estate mentre invece quando appunto ho un po' di colore sul viso perché mi dà giusto quell'uniformità quella radiosità mi toglie la stanchezza proprio al viso quindi molto adatto per una donna con la pelle matura come la mia però ecco dicevo perché mi sono persa dai miei discorsi questo lo preferisco d'estate quando sono un pochettino abbronzata mentre invece il touch detente lo preferisco mi piace anche durante la stagione fredda anche se non sono abbronzata perché dà un pochettino più di copertura infatti quello lì ce l'ho nella colorazione b30 e b20 entrambe questo comunque mi è piaciuto tantissimo adesso non l'ho ricomprato appunto perché mi sto sbiancando in viso ho ricomprato un altro fondotinta adesso di cui vi parlerò magari su instagram prossimamente però questo conto appena riprendo un po' di colorito a primavera prossima l'estate prossima questo per me è un mai più senza bellissimo e lo comprerò naturalmente in full size lo consiglio tantissimo da acquistare ovviamente con uno sconto perché a prezzo intero costa veramente tanto ma comunque chanel è scontabile su sephora su vari siti per cui non bisogna comprarlo per forza a prezzo intero buonissimo niente ragazze questo era l'ultimo prodotto io ho finito la mia busta l'ho buttata a terra e è completamente vuota spero di esservi stata utile con questo video di avervi tenuto compagnia vi ringrazio sempre per essere numerosi do il benvenuto anche ai nuovi iscritti grazie infinite sentiamoci nei commenti se vi va io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutte e a tutti ciao a tutti